L'ipassola Sono amici duecenti e saranno cento, e noi non hanno inventato il carcente. Per risparmiare il formaggio e il salame, mettiamo l'ipassola nel pan. L'ipassola è nata sul settembre, e li li devono seccare fino a dicembre. E ora le arambele secche, gli tolono la riccia e la riccia. E li mettiamo nella caldeira, e li devono bollire fino alla sera. E ora le arambele secche, e li tagliano su ma fina fina. E gli consegnano tutto al prestinei, che li mettono in dal pannei, e fanno su pizza e breccia d'elle, e là la merenda della famiglia. E dato che l'arriano scaltano, al di dopo hanno inventato un'altra. Inti in d'aquella del porcel, e hanno metto in l'ipassola il budel. ma distingue il madigeo calore, e liberando il tutto la storia da fuori. Inti in basso, e mettono la frua, e la merceda su con l'arte, in dimestua. E ora i budelli sa finì, e fanno sulle boccia, quel clamant pastì. e la merceda su con l'arte, e i le mettono l'appare e la merceda su con l'arte. E la merceda su con l'arte, e la merceda su con l'arte. Grazie a tutti.